Ciao a tutti ragazzi, mio dio, fra meno di un mese devo dare l'esame a Yelts, e quindi ho dei problemi a dormire la notte, è un esame che sarà diviso in quattro parti, molto lungo, e sto lavorando e sto studiando allo stesso tempo e non ho veramente tempo per i parimentali, però nonostante questo voglio condividere la mia esperienza su internet e vi farò sapere poi come andrà, sperando che la situazione migliorerà perché mi accordo di essere a un livello di calma piatta dove non si riesce assolutamente a migliorare, comunque questo spero sia il primo video di tanto e ci sentiamo, ciao ciao! Ciao!